Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo... Mi chiamo Giuseppe. E tu? Mi chiamo Jorge. Piacere conoscerti. Piacere mio. C'è tu a studio? Io studio musica. Bene, bene. Io studio dietro. Scusa, ancio io studio dietro? Fantastico. Lei è studente? Ciao, bella. Tu vieni che spesa. Sì, va bene in casa. Tu hai papita birra con mio? Bugiardo, non ci sei perdono. Tu? No? Quanti anni hai? Io sono diecinove. Sì, io sono voi. Ero a... Tu siamo! Accidenti! Arrivederci. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!